Lo vuoi Ballotelli? Struppiamo il freeze ai ragazzi, scusate. Lo vuoi Dayan Ballotelli come concorrente del GF? Perché no? Mi volevi dentro però poi dice basta basta fai male. Hai capito Dayan? Ciao a tutti ragazze e ragazze e bentornati sul mio canale io sono Joe Red e oggi parliamo di Mario Ballotelli che chiede scusa per la battuta infelice che ha fatto ieri durante la diretta del grande fratello Vip. Mario Ballotelli durante l'incontro con il fratello Enoch ha fatto una battuta sul Dayan Mello che ha indignato il web. Il calciatore dopo essere stato invitato da Alfonso Signorini a porgere le proprie scuse durante la diretta ha deciso anche di pubblicare un messaggio sul suo profilo Instagram. Vediamo che cosa c'è scritto. Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentito offesa. Con Dayan ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi quindi basta fare le femministe o maschilisti. Chiedo scusa perché si sente offeso ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi. Ho due mamme, tre sorelle, una figlia, le donne sono la mia vita. Basta speculare sull'ignotto. Vi voglio bene, buonanotte. Queste sono le scuse fatte da Mario Ballotelli per la battuta infelice che ha fatto ieri sera. E voi che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video. Se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altri news. Un grosso abbraccio da Joe Red.